5 motivi per andare in viaggio di nozze in Thailandia In un viaggio in Thailandia si può associare la visita di luoghi pieni di fascino e di storia, magari attraverso un tour o delle visite guidate, al relax nelle splendide isole nel sud del paese. In Thailandia si spende poco, gli alberghi hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e si può mangiare anche con pochissimi euro. La Thailandia è tra le 5 destinazioni turistiche più economiche. Il nord della Thailandia è una regione piena di luoghi suggestivi. Qui non può mancare l'esperienza della passeggiata a bordo di elefante all'interno della giusla. E' la visita delle tribù rurali. La Thailandia è il paese del sorriso. La gente accogliente e sempre gentile. E' presente un'ospitalità di alto livello. La Thailandia è anche il regno del benessere dei massaggi Thai. Acqua limpida e spiagge immacolate. Centinaia di isole e atolli dove potersi rilassare. Il clima è caldo tutto l'anno. Il periodo migliore per andare è il nostro inverno ma in estate è anche possibile. Se si sceglie l'arcipelago di Cosa Mori per il soggiorno mare. E' presente un'ospitalità di Cosa Mori per il soggiorno mare. Grazie a tutti